benvenuti ragazzi e benvenuti sul canale ragazzi oggi ragazzi mi sono iscritto e anche dalle immagini di copertina ragazzi oggi ragazzi giochiamo in italia in guitar ragazzi la finale è di Wembley in guitar ragazzi andiamo ragazzi a questa parte ragazzi giocheranno 10 minuti ecco lo l'ho detto ecco la guitar stava già allentata bufano tutti da piero viene mamma mamma tutto scassi e che tutto scattarne veccham e rulli che ho dovuto veccham e rulli veccham e rulli ok rulli e allora in guitarra all'andra a top all'andra in guitarra normale attempo ragazzi a tempo 8 minuti ragazzi 8 minuti giusto ragazzi ma il pallone è meglio la dago palone no insomma il pallone è predefinito la dago sia dai a sterpi ragazzi grazie via toh passati corti ragazzi tic tacca i tic tacca del delitalia ragazzi tic tacca stucca botichi noi e a 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 4 0 italia mamma io scatto di terra pure il tunnel al portiere 4 4 a 1 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 8 9 9 12 10 10 11 10 12 12 13 15 no dai retta ma ho dovuto iniziare a vedere, questo è utile bufaglio, il bufaglio fa nascere, tre pari avvigure il bufaglio, il bufaglio, il bufaglio, non più vale, questo è il bufaglio, No, questa è la gitarra Ah, dove l'ho rimandato? Oh, ma c'è la gitarra No, cazzo, no No, cazzo, no No, cazzo No, cazzo No, cazzo, no No, cazzo, no No, cazzo